Ciao a tutti amici, adesso tenterò Cynide versione batteria hard se non ce l'ho fatto, 77% ma ce l'ho vicino Scriviti al nostro canale 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Scriviti al nostro canale 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Scriviti al nostro canale 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 Scriviti al nostro canale